Musica 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 Andiamo con Domenico Umbro e Raffaele Pagliamudi Sì E sentiamo la musica Vedevo Sì Quindi ringraziamo questo grande personaggio Domenico Umbro perché è con noi infedele e anche Raffaele Ora seguiremo la forza di Ignazi sempre su Musica di Roberto Prandini e testo di Bruno Mancini Sì 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 Ma tu lisciami, e fasciami, e abbracciami, e stringimi, e scodimi, e covimi. E narrami, e ignorami, e forgiali, favolontosa, io vivo da sempre. Quasi fosse una mania detrosora. Quasi fosse una mania detrosora. Grazie a tutti. Grazie a tutti.